Ci troviamo a Fenile, esattamente presso strada comunale Madonna del Cavaliere e siamo stati chiamati da Giuliano Bartolucci, che è chiaramente un cittadino, per una situazione di pericolosità stradale. Questa è la sua proprietà che confina con il ponte e che confina anche con il canale. La pericolosità è che si sono staccati dei blocchi di cemento proprio da sotto il ponte e si sono posizionati e quindi la pericolosità del ponte diventa piuttosto importante. Visto anche il passaggio costante di automobili ad una velocità che arrivano velocemente, queste auto ciclisti, quindi oltre a questa cosa esiste anche il fatto che c'è una pianta, che vedete alle mie spalle, che sta con la pioggia, con l'uragano, quello che è successo, si sta posizionando anche questa sul canale e crea peso che potrebbe ulteriormente far crollare il ponte. Dunque è successo che subito dopo quando c'è stato il terremoto ho visto questi due blocchi completamente caduti nel centro del fosso dove scorre l'acqua e da quel momento ho subito chiamato il pronto intervento che sono venuti, i vigili del fuoco sono venuti, però ho detto non è nostro compito e ho avvisato anche i signori di Pesaro, quelli che puliscono i fossi. Sì, anche loro hanno detto che non è compito nostro, comunque tutto è rimasto così, nessuno si è fatto più vedere. Tutto lì sta cedendo, anche il cancello di mia proprietà, se ci sono disegni, che sta cedendo. Il pericolo reale per la sua proprietà qual è? Se il ponte sta cedendo io non lo so, non sono un tecnico, però come ho visto sulla mia proprietà il cancello che già sta scendendo e anche quella famosa pianta vicino sta effettivamente crollando a momenti, questa va giù, con le prossime piogge tutto si muove. Ha scritto una lettera al comune di Fano? Sì, tramite il geometra, hanno scritto una lettera che abbiamo, a loro ci hanno risposto che sarebbe quella lì che ha visto. Non sono mai intervenuti? Non sono mai intervenuti nessuno, nessuno. Se succedesse una cosa del genere, che tipo di danni avrebbe la sua proprietà? Non ho più il passaggio dove entro col camioncino per portare legna, letame, per i lavori agricoli. Poi anche lungo il canale, se guardiamo, il fosso non è stato mai pulito, c'è addirittura delle alghe molto alti. In più a 100 metri più avanti il fosso è completamente chiuso al pari che con le prossime inondazioni sicuramente succede quello che già è successo.